Musica Ascoltare musica jazz gustandosi un buon bicchiere di vino in una delle cornici più suggestive del centro storico Aretino. Questa è la rassegna di musica jazz jazz e wine all'interno di Casa Bruschi. Non è un genere di nicchia o perlomeno io sostengo che non lo sia. Va presentato, va fatto conoscere sicuramente poiché le cose che poi si conoscono si riescono ad apprezzare anche meglio. Quindi proponendolo in un certo modo sicuramente il pubblico apprezza. Suonare a Zuttarezzo è bellissimo, la Toscana è meravigliosa, il rilascimento, questo museo è bellissimo. Si trasuda bellezza da tutte le parti, quindi è sempre un'emozione suonare in una cornice così. Il jazz e il vino hanno molti punti in comune. Credo la cosa principale sia la qualità. In Toscana non esiste, credo non esista un vino di cattiva qualità. Anche la musica jazz solitamente è sinonimo di grande qualità.